Giorgia! Ciao, come va? Ah, sei un po' arrabbiato. Ti posso dire, Giorgia, guarda che si divorzia in 24 ore. Ci vuole un attimo, cioè proprio un attimo. Ci vuole un po' di buon umore, te lo do. Allora, senti questa battuta, ce l'abbiamo qua, guarda. Allora, senti, del PD, sei pronta? Allora, sciopero generale di 24 ore proclamato per domani. I lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. Ira del PD, ci copiano i programmi. Biden continua, continua la sua missione di pace, la sua missione di pace è importante, qui oggi incontrerà Gian Bruno e la Meloni.